Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della DojaCraft Eravamo rimasti nello scorso episodio che non mi ricordo che cacchio stavo a fare No, seriamente, non mi ricordo mica Allora, stavamo lavorando alla farm di mob E io stavo smanettando un po' qua sotto con i tubi Perché? Vi spiego molto semplicemente Il collegamento che sta qui non mi piace Non mi piace per niente Perché questa golden nugget arriva da sotto con gli oggetti Potrei migliorare tutta l'efficienza di questi macchinari grazie all'ender IO Potrebbe venire una cosa figa S'è l'unica cosa che qui non posso Allora, devo sicuramente estrarre mobile essence da qui Che andrà di là E una buona parte di questa mobile essence invece andrà di qua Quindi metterò un tubo qui Tubo qui, tubo qui E tubo qui Ed era una bella vrenciata qui Eh sì ragazzi, qui si fanno cose tecniche, precise Oh, attaccati, attaccati Allora, molta gente mi ha detto di smorfarmi per far funzionare la vrenciata Ma non c'è tra niente la morfa ragazzi È solo una questione di dove si va a cliccare sul tubo Se io cliccassi un po' più in alto No, non va, non va, non va Prova a smorfarmi ma non credo cambi nulla Smorf, smorfamento, dove sta? Omino, omino, omino Vieni fuori Dov'è sto omino? Oh, ok, ok, ok Mi smorfo, vediamo un po' Ok, è andato Perfetto, ok A quanto pare la morf ha la sua influenza Allora, qui dovrebbe arrivare anche schifezza È arrivata la schifezza? Perfetto, sta arrivando schifezza Adesso la schifezza La devo andare a recuperare dall'interno Oddio no, adesso è un problema però Perché la schifezza sta andando anche di là La schifezza sta andando anche qua in mezzo Perché si sarà collegato immagino Eh, te pareva Eh, vabbè, ormai sta qua dentro Aspetta, metto extract Basta faccio extract Guarda, faccio su liquidi Extract Perfetto Ha tirato fuori la mob essence Niente di più facile Ok, andiamo all'interno e vediamo questa mob essence Cosa ci dice Eh sì ragazzi, perché a noi serve mob essence Perché qui dobbiamo mettere dei mob spawner E dovrebbe essere arrivata qui dentro Perfetto Io faccio la stessa cosa che ho sempre fatto Tubi Tubi, 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 tubi E ho finito i pressurizer tubes Molto male Torniamo a casa Andiamo a craftarne degli altri What is the problem? Tanti materiali ce li abbiamo Abbiamo anche l'octatic capacitor Anzi, potrei fare anche altri octatic capacitor In modo che le farm di zombie che adesso ho Quelle che stanno nell'altra Nell'altra Shrinking cacchio Come cacchio si chiama Possono farmare più velocemente Vediamo un po' se Dele ho già craftati Octati No, li devo craftare Octa Che mi serve? Vediamo un attimo Volà Non va Non va niente Ok, ci siamo Fino qua Ok, non va nemmeno Non va proprio un niente È morto proprio Oh Qualcosa me lo crafti? Questa almeno Ah Due Eh, ti sarai sprecato Scusa, eh Non faccio più, giuro Solo un lingotto? Solo nove nugget Tutto qui? Ma se io smonto un po' di roba Tipo un paio di chest Ce l'ho all'exp? No, non ce l'ho Dovrei andarla a succhiare Adesso non mi vanno Ah Ah, ma ce l'ho nell'inventario Aspetta, fermi tutti Sì, l'oro ce l'ho qui Fermi tutti, fermi tutti È vero, se ce l'ho nell'inventario Non lo considero lei me Ah, non ce l'ho pensato a questo Ok, facciamone tanti Spamf 13 Oh, già va meglio Già si ragiona Ok, questi Perfetto, quanti ne vengono? Tre È un po' pochini Che ti mancano? L'ingotti quelli sopra? Vabbè, però almeno un octatic ci viene fuori No Manco per il cazzo Lì dice No, tu sei stronzo E non c'ho nemmeno la glowstone Non ho glowstone? Sei serio? Tu sei serio che io non ho glowstone? Andiamo nel nether Sicuro? Ma proprio sicuro, sicuro Ho finito la glowstone Che cos'è? Oh, glubus Oh, che cacchio Boh, qualsiasi facevano questi? Erano quelli color redstone, è vero E allora, prendiamo del gold Prendiamo della redstone E devo fare tantissima glowstone Redstone Sì, questi ne avevo fatti tantissimi Dei pulsati di iron Boh, a buffo Tanto per fare la team conduit Poi magari rimpiazzerò tutta la logistica Conduit del lander Io ancora sono indeciso Ok, andiamo a raccogliere un po' di glowstone E rimorfiamoci Perché non mi pare il caso di schiattare Allora, glowstone E qui ce n'è quanta me ne pare Pfff, un'infinità Ok, ce n'è un po' qui Un po' lì Un po' Ma questo infused Io ancora sinceramente non ho capito cosa fa questo piccolo infused Sfa Ah, sfascia velo Che cosa? One shot in blu Che fa? Non lo so Solo che la glowstone sta esplodendo senza motivo Ok, quanta ne ho fatta? Eh, quasi due stack Ne facciamo un altro po'? Sì, non sarebbe qua C'è un'altra qui Altra qui Pfff, quanta ne muove, guarda Sfoga, Dixander Vai, tutta glowstone Che bella aver il magnete sull'armatura Vedete se ragazzi Che mi assorbe tutta la glowstone instant Figata, eh È l'enchant magnet 4, guardate Non perdo nemmeno un pezzettino di glowstone Che figata Mi piace sta cosa Oh, 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 dove scappi? Ah, ecco Facce la furba, eh Guarda quanto ce n'è qui Tutta mia Tutta glowstone Sì Quanta glowstone Mi dico fermate Dammi, 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 dammi Oh, dammela Tutta mia Anche questa Ah, rieccomi a qui A cacca Qua a casa A casa Ok, ho un po' esagerato Forse come al solito Ho preso un po' troppo glowstone Ma vabbè, sono dettagli Allora, facciamo un po' di glowstone Pallettine qua Voilà Facciamo, ma che ne so Ah, una decina Boh Vediamo quanti riesco a farne di questi Zero Perché non ho né questi E né questi Oh, oh, oh Ok Ora tutte e due E voilà Octatic capacitor Me ne servono altri però Oh, sti cosi escono o no? Tre? Eh, già tre bassano Perché riesco a craftarne un altro Perfetto ragazzi Abbiamo due octatic Che li vado a mettere subito Dentro le farm C'è sta un coso più potente? Non credo No, l'octatic è l'ultimo Oh, me fai volà Me fai volà Era in quella centrale O in quella laterale? Quella centrale Ok, andiamo subito a mettere questi Octatic No, la centrale è la farm Che cacchio sta succedendo qua dentro? Oh, Bonnie Andaci piano Ma sta funzionando Oh, ho ammazzato qualcosa Oh, mi ha sparato quello Cazzati, eh Ti dico fermate Dammi sta roba Grazie, 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 grazie Ok, mettiamo questi octatic Che dovrebbero accelerare ancora di più il processo Voilà Porca paletta Ora quanti mob spawnano Vediamo quanto è più veloce Oh mio Dio, quanti spawnano Aspetta che velocità GG ragazzi Non ho parole per descrivere tutto questo Wow, fantastic Ok, avremo Avremo una valanga di oggetti Che non so che cacchio farci Quello potrebbe essere un problema In effetti Guardate come viaggia Ora smetti da avvelenare Mi hai roto le palle Oh, scusate La parola ci manca Non so collo Non so collo Ok, andiamo a fare altri Pressureized Conduit Ho detto, va, che devo portare via tutta sta mobessa Senza che adesso uscirà Oh, go, go, proprio Dov'è? Pressureized È vero Poi pressureized Conduit Mi mancava la nether quartz Ecco perché non l'ho più fatti Ok, devo andare a recuperare anche la nether quartz Ragazzi, c'è fortuna 3 sul piccone Adesso non mi regolo nemmeno col quarzo Mazzamato ci metto a scuola Adesso tu mi spieghi che cazzo sta succedendo Una freccia L'ho posata adesso Vieni qui a morire, pezzo di zero Sì, sì, spara, spara Vieni, vieni, tranquillo Sì, sì, fermo lì Non muoverti Guarda che cosa bella che c'ho per te Oh, lo senti? Ciao, core Ok A quanto pare il nether quartz, ragazzi È grezzo È grezzissimo Trovo anche del sale No, il sale non mi serve effettivamente Nether quartz è grezzo Esce il zulfo Che carino Ok, nether quartz Lo spolverizziamo tutto E lo mettiamo all'interno del questo affare qui E ci farà tanto, tanto Fuget quartz Che ci permetterà di fare i nostri Passurized conduit Ci vuole un po' di pazienza E questo spappola E quest'altro fa Mamma mia, tanta fortuna Già, già, mi sono cascate le Cioè, già, già Che palle Finisce più Ah, è velocissimo invece Un quanto è veloce È vero Perché l'ho potenziato E OP Oh, ragazzi, fantastico Veloce super Cacchio se è veloce Porca valetta Ah, bestia E il mio 3 conduit Oh, ci sono 24 Basta ne avanzano Per quello che voglio fare Almeno credo, eh Ma non lo so Ok Dovrei collegare questo affare qui Sì, ci sono praticamente Tutto qui E ho attaccato tutti i tubi Che devo attaccare Allora Ehm Che abbiamo detto Che siccome sono morfato Non va bene, giusto? No, va bene lo stesso È random Probabilmente è una questione Di posizione Probabilmente Dipende da dove mi metto Che faccia guardo Perché tutto Tutto di precisione Ok, collego Perfetto Mob essence collegata E online E adesso devo solo Portare la mob essence Dentro i futuri spawner Che io non mi sono portato dietro Vero? Uno solo me ne sono portato Vabbè, uno basta I futuri spawner Staranno al centro In alto In modo tale Che i nostri mob Cadranno sopra I mob green Sì, se magari Questa è l'enchant Che c'è sui pantaloni Ok, tipo qui Mi dite che va bene Come altezza O all'altezza del tubo In modo che esce Va dritto Infatti sto coso No, non lo posso staccare Perché deve uscire la mob essence Sì Sì, questa altezza Dovrebbe andare bene Perché ne metto due, tre No, facciamo un quadretto in più Un quadretto in più Dai, ed è un quadretto in più Un po' più su Mob spawner Ok, questa altezza? Sì, si può fare Qui si può fare Ok, colleghiamo Molto facilmente Ta Sì, certo Come no Ta E la voglia Ok, poi ci metto anche La corrente Che non mi sono portato i cavetti Perché sono Ah, ce l'ho Eccoli qua Ok, corrente Uno Due Tre Collegato Adesso devo collegare la mob essence Che dovrebbe essere uno di questi Collegamenti No, non quello Ecco, la mob essence è collegata La corrente di collegare No, quella Non è la corrente Quella è la mob essence Non è Non è la mob essence La corrente Non è Oh, ok Ce l'ho fatto No, ho scollegato qui Però aspetta Fermi tutti No, che disabito In e out Ok, perfetto Ok Ci siamo Senza segnale il resto Perfetto Ok, dovrebbe arrivare la mob essence Qua dentro? Sì, pieno Energia Pieno Uh, posso già spawnare E già solettrizzati questi, vero? Sì, posso già uccidere Oltre che già spawnare Oh, aspetta Fermi tutti Ok, togliamo Togliamo questi tubes Via Ok, spawniamo Questo c'è una cosa particolare ragazzi Lo skeleton Guardate C'è una cosa molto particolare Sugli scheletri Wither Ok, sta facendo Stai in idol Ok, adesso dovrebbe partire Perfetto È partito Con suo mob essence Sta spawnando il nostro mob Sì, per gli scheletri Wither C'è una piccola particolarità Guardate Ho messo Questo era lo scheletro di Wither Ricordate Guardate Uno scheletro normale Ah ah Fregato Sì ragazzi Perché con i Wither Dovete fare Spawn Exact Copy Yes È importantissima questa cosa Per far spawnare i Wither Perché gli scheletri Praticamente il Wither È una mutazione dello scheletro Quindi non è effettivamente Un mob a parte È uno scheletro E basta Quindi dovete mettere Il Wither Questo qui Questo qui Questo qui Questo qui Questo qui Sono allineati Sì, perfetto Da paura Madonna che spawner ragazzi Ecco qui il nostro Wither Adesso schiatterà E ci tropperà la testa No, ci tropperà Un'accetta stupidissima Niente di che Che schifo Però il problema È nel fatto che Se voi mettete Exact copy Yes Ci vorrà molto più work Che interia dovrebbe essere Esatto Da 86 Diventa 433 Che è un botto Quindi probabilmente Dovrò catturare altri Wither E mettere altri spawner Per risparmiare tempo E in più Consuma molto più mob essence Ovviamente perché Essendo il quadrupo Del war Che consuma quasi Il quadrupo Della mob essence Che non è da sottovalutare Come cosa È una bella botta Cazzo Eh, se sente Ok, intanto Colleghiamo tutto l'affare Qui, perfetto Finiamo i collegamenti Devo collegare i fluidi Anche a questi affari Tu hai rotto le varie Tu devi morire Ma mi ha guiderato Sto bastardo Ma mi ha guiderato Te fermi Hai stufato Stopate Come se spegni Sto cosa Spegnite Zitto Shut up È energia No No, sì Extract Ecco È una mob essence A posto Niente mob essence Niente spawn Ciao Gecko Sì, sì Sei l'ultimo Poison scheleto Che ficata Che cattivo Vediamo se ci è uscito Qualche testa di Wither No, niente 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 Oh, e voi Schietta C'è sto I cosi qui Non ti killano Lo killate Con calma No, ma tranquilli Mi sta uccidendo Sai, sto to' morendo Però è dettato Ok I due cavi li ho messi Adesso il terzo E l'ultimo cavo L'item conduit Per creare Triplo cavo Mamma mia, ragazzi Triplo caio Can qua Non ci si ragiona Dal triplo oro Al triplo cavo Questo lo vede anche da qui Non credo Oh Valid output Eh Che stai Che cacchio What No, no Devi aprirmi l'interfaccia Ok Oggetti Disabled Perfetto Perché tanto qui non deve collegare Deve collegarsi solo con le chest Ok ragazzi Triplo tubo Su un solo blocco What the fuck Lender io Veramente What the fuck Is this mod Ok Facciamo uscire gli oggetti da dietro E li portiamo a casuccia Così Voilà Niente di più semplice Ovviamente metterò Che gli oggetti Li deve Inserire Inserire Perfetto Ok Non c'è bisogno di nessun filtro Perché deve raccogliere Tutti gli oggetti Dal primo all'ultimo Senza 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 Ma cosa Ma che ingelli Denderium Ma la fai Fini Che problemi hai Ah non posso configurarlo Perché non ci ho messo l'upgrid Ok 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 ho capito Ho capito Ho capito Non rompere le valle Non rompere le valle Ecco Disabilita questo intanto E disabilita anche qui Perfetto Ok ragazzi Vedete la freccia in su Perché estrai Vedete la freccia in su Perché estrai Vedete la freccia verso dentro Perché infila Perfetto Dalle ceste aspira E va tutto dentro a questo Piccolo slottino Che non ci sta andando un cacchio di niente Però Qualcosa ci va per favore Qualcosina Perché non estrai Ah perché c'è C'è il segnale redstone A pezzo di zero Dovete togliere il segnale redstone Ragazzi Ok Questo potrebbe essere un problema Disabilita E disabilita Non vi dimenticate mai il segnale redstone Se no non parte un cacchio di niente Avete eserciato l'oggetto Perfetto Ecco le frecce Ok adesso devo estrarre Dall'altra parte E continueremo con questi cavetti Tanto alla fine ce l'ho Cioè li metto Dove è il problema E magari poter rimpiazzare Tutta la logistica alla fine Fa vedere Ci sono le frecce E qui lo estrago Lo porto dove però Anche qui io vorrei fare delle modifiche Perché tutto ciò a me non piace E a me deve essere sistemato In un determinato modo Allora la corrente deve passare Ok ma i liquidi no I liquidi devono arrivare Da un'altra parte Vi faccio vedere che cosa ho in mente Allora Corrente Vabbè ragazzi Io vi saluterei qui Perché tanto Buona parte dell'impianto è fatta Avete visto che cosa ho in mente eh Ovviamente ho spostato anche Lo spawner di enderman Che avevo nell'altro spawn Vedete 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 Ho messo entrambi gli spawner Questo è quello di enderman Che stava di là L'ho portato di qua Perché tanto di là Non serve a niente E farò la stessa cosa Che sto facendo qui Anche di là Adesso io qui Ho sconegato il tubo Perché questo tubo Deve arrivare da un'altra parte Vi faccio vedere pure che ho in mente Anzi Ve lo faccio vedere nel prossimo video ragazzi Ciao a tutti Bella se beccamo